buonasera piccoli contadini come state tutto a posto allora eccoci qua per una storia è una pianta la storia oggi è cinese la storia di un contadino cinese sentito un po e la pianta è la rosa canina quindi vedremo queste due belle cose speriamo bene ci sia linea perché prima nella diretta dell'orto è caduta la linea e non siamo riusciti arrivare in fondo ma noi proviamo lo stesso vediamo un attimo come ci va come al solito sono partito un minutino prima per dare tempo a tutti di buttarsi dentro e di ascoltare la favola di oggi vedo già che c'è qualcuno è entrato in diretta c'è un numerino uno lì vediamo chi è tra un pochino me lo me lo fa vedere e niente così almeno anche oggi leggiamo la nostra storia un'altra volta non è una storia mia ma è una storia che ho trovato conoscevo già lo me la sono stampata così ve la leggo e poi vedremo nei prossimi giorni magari di scrivere qualcos'altro o altre due tre storie mie in realtà che sono lì in un cassetto vediamo e tirarle fuori allora io direi vediamo un po è sono partito un pelino troppo prima è stefano ciao o grande ciao stefano come stai oggi stefano questa qui è la diretta alle quattro e mezza per i bambini leggiamo una storia e vediamo una pianta conosciamo una pianta ciao massimo mamma mia vai siamo già 5 6 tra un attimino si parte perché per i bambini in questi giorni è importante così almeno sentono una favola così conoscono una pianta magari anche i genitori sentendo alcune di queste piante che sono utili rinforzano pure le difese fra l'altro sentirete poi cosa vi racconterò della rosa canina è una roba impressionante ragazzi impressionante che neanche io sapevo studiando facendo il video per voi oggi ho scoperto una cosa che non conoscevo sulla rosa canina quindi io direi cominciamo sono passate le quattro e mezza possiamo cominciare allora questa è la storia del contadino saggio un contadino cinese viene dalla cina questa storia cominciamo c'era una volta in un villaggio cinese un vecchio contadino che viveva con suo figlio e un cavallo che era la loro unica fonte di sostentamento un giorno il cavallo scappò lasciando l'uomo senza possibilità di lavorare la terra i suoi vicini accorsero da lui per mostrargli la loro solidarietà dicendosi dispiaciuti per l'accaduto lui li ringraziò per la visita ma domandò a loro come fate a sapere se ciò che mi è successo è un bene o un male per me chi lo sa così disse i vicini del vecchio contadino ci rimasero un pochino confusi andarono via una settimana dopo il cavallo ritornò alla stalla accompagnato da una grande mandria di cavalli giunta la notizia agli abitanti del villaggio questi tornarono a casa del contadino congratulandosi con lui per la buona sorte prima avevi solo un cavallo e ora ne hai molti è una grande ricchezza che fortuna dissero grazie per la visita e per la vostra solidarietà rispose lui e per la vostra solidarietà ma come fate a sapere se questo è un bene o un male per me i vicini ancora una volta rimasero sconcertati dalla risposta del vecchio contadino e se ne andarono via qualche tempo dopo il figlio del contadino nel tentativo di addomesticare uno dei nuovi cavalli arrivati cade da cavallo e si ruppe una gamba i vicini premurosi tornarono a far visita al contadino dimostrandosi molto dispiaciuti per la disgrazia l'uomo ringraziò per la visita e l'affetto di tutti e nuovamente domandò come potete sapere se l'accaduto è una disgrazia per me aspettiamo e vediamo cosa succederà nel tempo ancora una volta la frase del vecchio contadino lasciò tutti stupefatti e senza parole e se ne andarono increduli trascorsero alcuni mesi e il giappone dichiarò guerra alla cina il governo inviò i propri emissari in tutto il paese alla ricerca di giovani in buona salute da inviare al fronte in battaglia arrivarono al villaggio e reclutarono tutti i giovani eccetto il figlio del contadino che aveva la gamba rotta nessuno dei ragazzi ritornò vivo il figlio del contadino invece guarì e i cavalli furono venduti procurando una buona rendita il saggio contadino passò a visitare i suoi vicini per consolarli e aiutarli come loro si erano mostrati solidali con lui in ogni situazione ogni volta che qualcuno di loro si lamentava il saggio contadino diceva come sai se questo è un male se qualcuno si rallegrava troppo gli domandava come sai se questo è un bene gli uomini di quel villaggio capirono allora l'insegnamento del saggio contadino che li esortava a non esaltarsi a non lasciarsi abbattere dagli eventi accogliendo sempre ciò che è consapevoli del fatto che al di là del bene e del male tutto potrebbe rivelarsi diverso da come appare ecco qua ragazzi questa era la storia di oggi spero tanto che vi sia piaciuta chi è arrivato in ritardo pubblicata è un c'è problemi intanto saluto cecilia saluto ascensina ciao saluto john mandel ragazzi dagli stati uniti how are you john we are online with tales for children and plants the format is tales and plants quindi adesso diciamo in italiano poi se c'è ancora john si può anche dire in inglese vediamo un attimo ciao serena eccoci qua si collega ancora un po di gente e adesso andiamo conoscere la rosa canina siete pronti perché abbiamo avuto la fortuna sfacciata di avere qui accanto a casa una pianta di rosa canina che benché sia inoltre ha ancora le bacche e dovete sapere che le bacche sono la parte più interessante della rosa canina quindi adesso giro la fotocamera e vi faccio vedere questo c'è pina ciao fantastico come state eccoci qua giro la fotocamera e andiamo a vedere le bacche della rosa canina e vi racconto anche come le ho conosciute io è una rosa canza è adesso giro vediamo un po e cerchiamo di avvicinarci nonostante ci sia qualche spinotta andiamo a vedere le bacche eccole qua vedete come sono belle sono belle rosse è il momento diciamo più adatto a raccoglierle eccole qua è di solito gennaio allora io vi dico anche perché si chiama rosa canina giro un attimo la fotocamera si chiama così perché gli antichi romani ritenevano che la rosa canina curasse la rabbia perché ha delle proprietà anche lei che sfiammano e antibiotica a tanta vitamina c quindi quando si sta male o si hanno delle ferite o si hanno delle malattie la vitamina c è uno degli elementi che aiuta a guarire ok e la rosa camina e la rosa canina in questo specialista allora loro pensavano che fosse utile per la rabbia e la rabbia con i cani allora l'hanno chiamata rosa canina in realtà è una rosa selvatica è una rosa selvatica fa dei fiorellini bianchi con cinque petali che non ci sono quando ci saranno ci ritorniamo sopra ve li faccio vedere abbiamo avuto la fortuna però di trovare bacche ancora che di solito in questo periodo cominciano diciamo a cadere la raccolta l'ha fatta un pochettino prima allora dovete sapere che durante la seconda guerra mondiale in inghilterra gli inglesi a cominciarono a raccoglierla e a farci le marmellate con queste bacche per darle ai bambini che avevano carenza di vitamina c che stavano male s'ammalavano non riuscivano a guarire perché non c'era più verdura non c'erano più vitamine tutto quanto e cosa hanno fatto gli davano questa e sono arrivati a produrne 450 tonnellate in inghilterra che sono tante ragazzi sono 4500 quintali quindi sono 450 mila chili pensate un po quante erano ciao mattia intanto eccolo grande mattia come stai ciao eugenio vada mamma mia fantastico e adesso vi racconto come l'ho conosciuta io dovete sapere che qui vicino a me abitava un contadino che uno di quelli insieme al mio babbo ed altri che mi ha insegnato a portare e mi ha insegnato a fare l'orto mi ha insegnato a fare tante cose andavo anche a scuola d'agricoltura è però giulio il contadino giulio mi ha insegnato tante cose fra cui come si mangia la rosa canina ciao chiara che piacere averti in diretta fantastico fra cui come si mangia la rosa canina e lui mi diceva pietro tu prendi la bacca e c'è come la fumarola dentro c'è una fumarola e poi senti prometti in bocca direttamente sente come è buona e ora io spero di riuscire a farvi vedere perché c'è qualche bacca qui ancora bella grassottella diciamo è grassottella io giro la fotocamera eccola qua e andiamo a raccogliere questa che mi sembra la migliore per sentire se sono mature si pigia e si sente se la bacca cede se è dura dura non è matura adesso sono tutte mature anzi sono anche stramature se se cede si sente che morbida si raccoglie e adesso vi faccio vedere esco qui dalla macchia esco da questo c'è il spuglio dove mi ero infilato ciao rossa eccola allora guardate un po' è schiacciandola in questo modo mi è anche caduta vediamo un po